Sarà così freddo almeno fino al prossimo weekend. I disagi del maltempo che da giorni tiene in ostaggio gran parte della penisola in città hanno colpito soprattutto i quartieri collinari. Un'abbondante nevicata ha imbiancato la scorsa notte alcune zone del vomero di pianura e dei camaldoli, con strade chiuse per ghiaccio e lezioni sospese in alcune scuole. La situazione è sotto controllo tenendo presente la difficoltà del momento, quindi senza drammatizzare, senza creare un panico inutile, ma tenendo sotto controllo e coinvolgendo le istituzioni in modo serio e consapevole. Tempestivi gli interventi della protezione civile comunale che in vista di ulteriori gelate, l'ondata di freddo potrebbe proseguire anche fino alla prossima settimana e impegnata in attività di presidio e monitoraggio delle zone collinari. Stiamo monitorando la zona di Chiaiano-Camaldoli che è quella maggiormente a rischio gelate e anche neve, abbiamo in collaborazione con la protezione civile regionale e con le organizzazioni di volontariato predisposto i servizi di spargimento sale per prevenire le gelate. Consigliamo ai cittadini in caso di neve o gelate di utilizzare comunque le catene a bordo e di limitare gli spostamenti per quanto possibile, in particolare con i motocicli e i ciclomotori. Per fronteggiare l'emergenza l'assessorato alle politiche sociali ha già messo a punto un piano straordinario teso a garantire un riparo e senza tetto e fornire interventi di primo soccorso sul territorio. Nei primi quattro giorni hanno trovato accoglienza circa 70 persone segnalate al numero 0815627027 attivo 24 ore su 24 e oltre 500 sono stati raggiunti dalle unità mobili e ricevuto coperte e un passo caldo. In molti, spiega l'assessore Sergio D'Angelo, sebbene invitati presso le strutture di accoglienza decidono di non lasciare la strada. È stato perciò potenziato il numero di camper in circolazione che con il coinvolgimento di Napoli Sociale e del centro servizi volontariato passano da 3 a 8 e si avvarranno del contributo di un medico volontario della Croce Rossa.